Anche a Pescara è stata celebrata la festa della Repubblica nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina in piazza Garibaldi, alla presenza delle massime autorità civili e militari che hanno seguito l'alza bandiera, gli onori con la deposizione delle corone in memoria di tutti i caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A fare gli onori di casa il sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. Oggi più che mai viva l'Italia, viva l'Italia repubblicana da 72 anni. Ripetiamo questi riti della Repubblica con l'auspicio sempre di riempirli di contenuti. Ci fa piacere condividere questo con le varie generazioni di cui si compone la nostra società da quanti ricordano ancora l'eco di quella Repubblica nata nel giugno del 1946, il 2 giugno 1946 e quanti invece sono oggi le nuove generazioni cui tocca dare vita e seguito e contenuti alla nostra Repubblica. Noi dobbiamo scuotere le coscienze intorpidite che naturalmente non sono solo quelle dei giovani ma l'intorpidimento è questione trasversale e penso che queste appunto siano delle occasioni. Poi sta a noi naturalmente finita la cerimonia in tutti i ruoli che abbiamo nella società cercare di riempirli di contenuti ispirandoci a quei valori che oggi celebriamo.